Tutte le sfumature del cablaggio e della connessione. In un impianto elettrico la progettazione permette di trasferire l'idea iniziale con coerenza in esecutivo. In una prima fase con la posa dei corrugati, delle scatole di contenimento come per esempio quelle per i quadri, quelle per le derivazioni e quelle terminali e poi in una seconda fase con la posa dei conduttori per la connessione dei carichi, dei dispositivi di comando e anche delle prese. Si passa tanto tempo forse la maggior parte davanti e quelle scatole, quei contenitori in cui convergono tanti conduttori e da qui poi si definisce anche grazie alla bravura dell'installatore la cosiddetta pulizia dell'impianto. In un impianto dove sono organizzati per bene i collegamenti un installatore avrà vita facile durante la messa in funzione dell'impianto, durante l'eventuale ricerca di guasti o per esempio quando devono essere fatte future manutenzioni o ampliamenti. Sarà fondamentale quindi organizzare i raggruppamenti dei vari conduttori che vanno a finire che convogliono all'interno delle varie scatole di derivazione oltre che per colore anche nella lunghezza in modo da poi agevolare queste operazioni in modo da facilitare quindi anche la connessione dei conduttori stessi. L'uso delle fascette per i gablaggi permette con grande facilità di rendere un impianto più pulito più elegante e soprattutto rendere riconoscibile e distinguibile la struttura dell'impianto sia per se stessi in caso di manutenzione e anche per gli altri addetti ai lavori. A seconda della quantità e dello scenario potrebbe essere necessario raggruppare un numero importante di conduttori organizzati anche a cavi ad esempio in uno scenario industriale dove si devono fissare su delle canalone grandi quantità di cavi ed ecco che la lunghezza delle fascette gioca un ruolo molto importante peraltro molti sappiamo che una volta chiuse le fascette vedete qui queste non si possono più riaprire in caso di manutenzione o diciamo verifica dell'impianto se non tagliandole e poi andando a sostituire la fascetta stessa. Per rispondere a tutte queste esigenze Elematic pensa a tutte le sfumature del cablaggio. Si tratta di un'azienda italiana specializzata nel settore del fissaggio e del cablaggio che offre ai professionisti del settore elettrico ed edile una gamma diversificata di soluzioni. Attraverso il link che vi lascio in descrizione potete raggiungere un contenuto sviluppato sempre con Elematic dove abbiamo parlato anche di tutte le sfumature del fissaggio. Per i cablaggi temporanei o dove richiesta la funzione apri e chiudi esiste la fascetta cosiddetta riapribile. Vedete si utilizza allo stesso modo di una tradizionale fascetta e una volta che poi abbiamo esigenza di visionare l'impianto o comunque aprire tra virgolette l'impianto questa può essere sganciata, aperta e riutilizzata. Ancora sfumature di fascette oltre il colore, la lunghezza, lo spessore e la larghezza abbiamo tipologie oltre quelle richiudibili che abbiamo visto e le tradizionali, quelle a testa piatta ottimizzate per una chiusura rinforzata ma allo stesso tempo facilitata per grossi quantitativi dove non è richiesto l'utilizzo di utensili particolari per la chiusura. Vedete e poi le cosiddette two lock con doppio dentino metallico e un'anima liscia che permette di chiudere la fascetta in maniera calibrata senza avere degli scatti che a volte in un passo abbiamo la fascetta troppo lenta e in un altro passo troppo stretta vedete possiamo calibrare come vogliamo la chiusura della stessa. In combinazione con dei supporti particolari si riesce a fissare la fascetta su superfici particolari ad esempio all'interno di quadri elettrici dove è richiesta particolarmente la stabilità. Non mi sono scordato però del nastro isolante che anche se non è più indicato per chiudere connessioni resta sempre un importante strumento per organizzare cablaggi ad esempio prima di chiudere la parte terminale di un collegamento oppure mentre organizziamo i fili all'interno di una scatola prima della chiusura con le fascette definitiva. La versione autoglomerante del nastro completa le connessioni per un'ottima protezione meccanica ed elettrica ad elevato potere impermeabilizzante indicato soprattutto dove devono essere chiuse delle connessioni in presenza di umidità o esposte indirettamente alle intemperie. Una volta organizzati e raggruppati i conduttori adesso tocca alle connessioni elettriche e alla chiusura di queste. I 4box giocano un ruolo molto importante vedete in questa fase spesso confusi con i mammut che sono sempre dei connettori per elettricità che però giocano un ruolo leggermente diverso. Il 4box ci dà la possibilità di ottenere una connessione serrata attraverso chiusura a vite contro delle cavità metalliche dove va introdotto il rame del conduttore con possibilità di ispezione con cercafase o puntali di un multimetro per test o verifiche successive con la protezione dell'isolante che ci sta attorno senza possibilità accidentale di venirne a contatto. Rispetto a quando le connessioni venivano effettuate con il solo nastro isolante queste adesso sono più pratiche più sicure più solide oltre al fatto che la vite stringe la parte di conduttore e quindi aumenta la superficie di contatto del conduttore stesso e inoltre quando ci sono operazioni sulle scatole di derivazione si evita che qualche conduttore possa scappare dalla connessione. Quasi sicuramente i 4box si usano all'interno delle scatole di derivazione per giunzioni e derivazioni di linea. Questi connettono almeno tre conduttori perché il potenziale si moltiplica o si demoltiplica. Due conduttori uniti con un 4box sollevano un errore sull'impianto perché rappresenterebbero un unico conduttore giuntato. Il mammut fornito a stecchie poi viene tagliata la parte che interessa è di fatto una morsettiera che consente la connessione uno a uno di vari conduttori quindi da un lato e dall'altro. permette quindi la connessione di un carico all'impianto che abbiamo realizzato un carico che già è riconosciuto funzionante collaudato da qualcun altro. Mi viene da pensare ad esempio alla caldaia quindi la morsettiera dove c'è l'alimentazione i contatti per il termostato contatti eventualmente per gestione e logica delle valvole di zona quindi l'interfaccia attraverso la connessione mammut tra l'impianto che fa l'installatore e ciò che viene consegnato ad esempio da terza parte. Tornando alla connessione di tipo 4 box può essere necessario ad esempio dopo una riparazione chiudere il collegamento senza possibilità di ispezione ad esempio vicino a schede elettroniche con i cappucci terminali a crimpare. Una situazione tipica è quella per esempio quando si vuole tra virgolette sigillare l'impianto. Il cablaggio non si ferma solo al raggruppamento dei vari conduttori oppure alla connessione tra più di questi. Esiste anche la parte finale del conduttore. I terminali permettono di ottenere maggiore stabilità meccanica e una corretta conducibilità elettrica in prossimità di connessioni a vite o a morsetto. Nella versione non isolata a tubetto della sezione adeguata il terminale ci permette di aumentare la stabilità, aumentare la tenuta della connessione ad esempio in prossimità delle morsettiere Mammoth. Con puntalini più piccoli possiamo fare connessione su questi morsetti per esempio e quindi aumentare la stabilità meccanica e la conducibilità. La versione Faston forse quella più vista in prossimità delle connessioni ai vari dispositivi è nella variante femmina che è quella più utilizzata che appunto si connette qui nella parte complementare oppure anche nella parte maschio se troviamo dispositivi che richiedono questo particolare tipo di connessione. A volte si utilizza anche l'aggiunzione maschio femmina tra vari Faston per esigenze particolari quindi si può tranquillamente utilizzare. Viene spesso sottovalutato il colore dei Faston ad esempio il rosso accoglie una sezione da 0,25 a 1,5 mm quadri con l'apposita pinza stringe fino a quella sezione mentre il blu è raccomandato da 1,5 in poi fino a 2,5 mm quadri e poi si va verso il giallo con sezioni da 4 a 6 mm quadri. Nella versione Faston femmina anche isolata per esempio tornando a questo componente è un doppio deviatore e questo richiede comunque protezione isolamento all'esterno comunque in prossimità. I puntali possono anche essere isolati per esempio dove c'è gestione di potenza e vogliamo avere un'ulteriore protezione in prossimità del confine tra per esempio la morsettiera mammut e l'isolante del conduttore. La crimpatura avviene tramite pinza adatta rispettando l'asola che corrisponde di solito al colore e quindi alla sezione per evitare di stringere troppo o stringere troppo poco. Non meno importanti le versioni a forcella di solito siamo 1,5 2,5 4 barra 6 per connessioni a inserzione dove ci sono delle viti vanno ad esempio connessi in una morsettiera come questa. Particolare importanza rivestono i capicorda per conduttori di una certa potenza. Qui si parte dal 16 mm quadri per passare dal 25, 35 eccolo qua e anche il 70 mm quadri con certi diametri sul foro. Questi servono appunto per crimpare, per chiudere la parte terminale di conduttori di una certa sezione. Qui per esempio ho un conduttore di terra pronto per essere avvitato e stretto da qualche parte. Li possiamo anche trovare impiegati per esempio per connettere i magnetotermici differenziali di una certa grandezza. A partire credo da 125 amperi in poi troveremo la connessione che si deve effettuare con dei capicorda del genere. Questi vengono crimpati con una crimpatrice più grande che può essere anche idraulica per applicare una certa forza. Per condizioni particolari anche industriali c'è la calza trecciata che ha lo scopo di trattenere fili, cave e conduttori tutti nella stessa linea, nella stessa posizione. Mi viene da pensare per esempio a un'anta dove per esempio c'è un display e passano tanti fili e conduttori che vanno a finire all'interno di una logica di un macchinario per esempio oppure una caldaia. Bene tutti questi fili per evitare che si spostino tra loro e possono anche interrompersi nel tempo vengono trattenuti da questa calza trecciata. Vedete più tiro e più li trattiene. Potrebbe tuttavia essere necessario dal lato dell'utenza organizzare per la vita domestica ulteriormente fili e cavi ed Elematic ci viene anche qui in aiuto con la sua gamma. La spirale per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni rappresenta una soluzione non solo in ambito domestico ma la soluzione ideale per raccogliere cavi anche in ambito industriale. La guaina termorestringente nell'apposito dispenser mi sarà molto utile e molto pratica da utilizzare e da conservare qui in garage per condurre per esempio i miei progetti e non solo. Molto utile per aumentare il potere di isolamento, la protezione attorno a un conduttore o come contenimento di vari conduttori. Grazie alla proprietà Kia che quando viene scaldata questa restringe il più possibile e contiene ciò che ci sta all'interno sia per trattenere meccanicamente ad esempio conduttore all'interno o per isolare ulteriormente. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate a proposito del mondo del cablaggio di questo contenuto raccontandomi la vostra esperienza. Abbiamo anche visto che il mondo del cablaggio appunto non è una cosa semplice ma può essere anche affascinante con tutte queste sfumature che esistono dalla posa del conduttore fino alla chiusura dell'impianto e alla messa in opera con diversissime soluzioni che vengono messe a disposizione grazie anche a Elematic che si rivolge in maniera professionale agli addetti ai lavori. Da Sebito Risi e da Elematic è tutto, vi ringraziamo e alla prossima! Grazie a tutti!